Io ho il sospetto che il sistema sventato a Catania sui biglietti, la frode sui biglietti che viene fatta alla regione sia un sistema molto più diffuso e concorderemo con l'assessore Arramo e col direttore generale dei beni culturali, interventi blizz che dovranno essere fatti in tutti i parchi e musei perché è assolutamente assurdo quando avviene e soprattutto per esempio io credo che i musei non dovranno più gestire biglietti omaggio anche perché è facile dare un biglietto omaggio e poi farselo pagare, il cittadino o lo straniero che va a vedere se quello è un biglietto omaggio sono di colori solo diversi e quindi a volte non permettono neppure al cittadino di controllare la natura del biglietto però questo consente eventualmente di farselo pagare e questo deve finire perché 10 milioni là, 10 milioni là, altri 10 milioni là alla fine fanno centinaia di milioni di euro che sono frutto della corruzione